Ciao a tutti, io sono Vitenandia, benvenuti a questo nuovo video, come vedete il titolo sarebbe, sarà una storia di fantasia, ovvero pescherò un bigliettino di questi, sono anche due verdi, dove pescherò una parola e con quella creerò una storia di fantasia, vediamo la parola di oggi, è una storia ma non ci provo, la parola è domani, è una ragazza, è un ragazzo, che si, si rispondevano dei messaggi di Mimusap ma senza conoscersi, e un giorno lui disse a lei, voglio uscire con te, il video difficile si chiude qui, se il video vi è piaciuto mettete like, scrivetevi al mio canale, ma prima di salutarvi, se la vostra vita è grigia, sorridete, perché avete una vita sola, alla prossima!